Il mio figlio è dentro, è già un buono mezzo. In base al numero non penso. In base al numero è male. No, no. Sali, sali. Chi era? Chi era? Buono, buono, buono. Viva! Sali, sali. Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, torta pressione, torta pressione. Sì, James, sì, James. Sì, James, portano il mondo. Bravo, tia. Bravo, tia. Bravo, tia. Bravo, tia. Bravo, Luca. Grazie a tutti. 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 Con calma, con calma, calma, calma! Calma! Grazie a tutti. Grazie a tutti.